Sembra volgere a buon fine l'epopea della broncopneumologia trasferita dall'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore al Mauro Scarlato di Scafati. Frenetiche in queste ore le attività per sbloccare la situazione. A Scafati mancano ancora molte cose, in particolare i farmaci, anche se proprio questa mattina sono state avviate le procedure di trasferimento da Nocera. Gli operatori sanitari della divisione specialistica sono però molto scettici sulla reale possibilità di cominciare a ricoverare dalla prossima settimana. Sarebbero da escludere in particolare le unità di terapia intensiva. Al massimo, dicono, si potrebbero attivare gli ambulatori e qualche posto letto con ventilatore. I dirigenti medici però sono ottimisti. Va sottolineato comunque che attualmente gli infermieri in servizio a Scafati stanno lavorando a scartamento ridotto in quanto funziona solo il servizio di polisonnografia. Dal punto di vista burocratico intanto, ieri è stata definita la procedura informatica per i ricoveri. Domani sarà limato il protocollo che dovrà regolare gli accessi degli acuti nella struttura di via passanti. Al lavoro i direttori sanitari degli ospedali di Nocera Inferiore, Scafati e Sarno. Attualmente a Nocera Inferiore la gestione degli acuti non appare drammatica. Complici anche le buone condizioni meteorologiche non c'è un picco di accessi. Si riesce a sopperire con i posti letto messi a disposizione nel reparto di medicina di Nocera Inferiore e con qualche letto recuperato nelle divisioni internistiche di Viale San Francesco. La speranza per il direttore sanitario dell'Umberto I, Maurizio D'Ambrosio, è che per i giorni di picco influenzale a Scafati sia tutto pronto avviato. Un auspicio non irreale se anche il primario Mario Polverino e il direttore generale Antonio Squillante hanno più volte parlato di reparto a pieno regime per il mese di gennaio.